Ciao runners e ciao amanti della corsa, io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42. Si torna a fare una recensione di scarpe e lo si fa con un modello che ha fatto discutere parecchio noi trail runner, le Oka Speedgot 5. Infatti davvero tanti di noi tra cui proprio chi vi sta parlando hanno amato alla follia la versione precedente, la 4. Però questa nuova scarpa ha cambiato un po' di cosette lasciando almeno in parte insoddisfatti tanti di noi. Personalmente reputo la Speedgot 4 la migliore scarpa da trail che abbia mai avuto ad oggi, l'ho usata tantissimo. Ci ho fatto praticamente tutte le gare su trail del 2022 più un bel po' di lunghi in preparazione a queste gare, al punto che però non ce la faceva letteralmente più e cambiandola ho deciso di proseguire con la nuova versione pur sapendo già da altre recensioni ed opinioni sentite in giro che c'erano delle differenze tra questi due modelli. In verità poi in negozi ho provato anche altre scarpe ma comunque mi sono fidato del questa nuova 5. Parliamo però allora di questa scarpa su consapevole già da ora che farò un sacco di confronti con l'edizione precedente è una cosa che mi verrà veramente naturale. Prima di entrare nello specifico giusto due mini precisazioni. Uno queste scarpe me le sono pagate io coi miei soldi e due le recensioni sono sempre molto soggettive è un campo comunque spinoso a maggior ragione su scarpe da running o anche da trail running dove ognuno ha le proprie preferenze caratteristiche tecniche e caratteristiche pure fisiche. Nel corso delle ultime settimane ho letto e sentito opinioni veramente molto divergenti sulle scarpe da corsa su strade su trail ed in special modo proprio riguardo queste speedy goat 5. C'è chi le trova molto bene e chi al contrario le schifa proprio. Adesso aggiungo pure io la mia opinione a questo calderone. Come sempre iniziamo però dalle specifiche tecniche. Peso nel modello da uomo taglia 42 291 grammi 33 mm di altezza al tallone 29 in punta nella versione maschile mentre sono 31 e 27 in quella da donna. In entrambi i casi comunque c'è un drop di 4 mm. Questa mia recensione la registro dopo aver fatto alcuni allenamenti lunghi in vista del Valtellina Wine Trail e subito dopo oltre ad averci corso lo stesso Valtellina. Quindi tenete presente che come singola uscita ci ho fatto al massimo 42 chilometri con 1800 metri di dislivello positivo. Tuttavia anche se non le ho usate ancora moltissimi infatti di giorni di ore ne hanno già macinate parecchie in questi primi tempi. Ma adesso entriamo nei dettagli di ogni parte di questa Oka Speedgoat 5. Come sempre iniziamo dalla suola. C'è la fantastica Vibram Mega Grip con Traction Lag. Dal punto di vista della tenuta è comunque difficile chiedere di più. I tacchetti sotto la suola sono alti 5 mm e hanno una forma quasi a gancio per così dire. Infatti ad ognuno di essi sono anche stati aggiunti dei mini mini dentini che dovrebbero consentire un grip ulteriore ancora superiore. Onestamente adesso mi ci trovo bene ma non ho trovato tutta questa differenza dovuta ai gancetti ma insomma il grip è comunque ottimo. Non c'è un vero e proprio rock plate ma finora non ne ho sentito la mancanza. Uoi per via dell'altezza dal terreno che è comunque importante. Ad ogni modo è giusto dirlo non ho mai corso su terreni eccessivamente tecnici dove probabilmente avrei percepito meno sensibilità complessiva. Come per ogni Oka che si rispetti al suo interno c'è il meta rocker che a quanto pare hanno spostato leggermente più sulla punta per provare a cercare una maggiore reattività. C'è pure un canonico rinforzo sempre sulla punta anche se poi non è proprio perfetta devo dire che insomma la suola è la parte che complessivamente mi è piaciuta di più di questa scarpa. L'unica nota negativa forse è che c'è un po' troppa intersuola esposta che potrebbe consumarsi prima del previsto anche perché magari soggetta a urti o colpi proprio presi sulle pietre. Mossa questa comunque fatta un po' come vedremo anche per altre in nome del limare del peso complessivo. Salendo veniamo all'intersuola rispetto alla versione precedente questo è stato un elemento molto alleggerito e cambiato assieme alla tomaia pure quella che è cambiata molto di cui vi parlo successivamente. Qua hanno ridotto la densità dell'eva usandone una leggermente diversa una tecnologia denominata cm eva diminuendone così il peso e provando ad aumentare al tempo stesso alla reattività. Obiettivo comunque centrato pur essendo un modello adatto principalmente a corse lunghe rispondono piuttosto bene anche quando si fanno girare le gambe anzi è proprio sul corribile che vanno alla grande anche se hanno perso devo dire di stabilità sui percorsi più complessi. In sostanza la nuova intersuola non solo migliora la reattività di queste speed goat 5 ma rappresenta un motivo significativo riguardo la perdita del peso della scarpa e una scarpa più leggera di solito significa anche andare più veloci. Veniamo alla tomaia. Pure lei ha subito una drastica riduzione dal modello precedente ma non solo è stata proprio ripensata e rivista in toto. Il materiale è un mesh ingegnerizzato fatto parzialmente di materiali riciclati cosa che ormai fanno un po' tutti i brand di scarpe in doppio jacquard. Questo jacquard sarebbe una specie di rete intrecciata per capirci ma chiamarlo così fa evidentemente più figo. Ad ogni modo c'è questo doppio strato da cui sono state eliminate delle sovrapposizioni rigide presenti nelle versioni precedenti questo sempre con in testa l'idea di maggior leggerezza. Esteticamente mi piace veramente tantissimo lo so che per me questo è veramente sempre l'ultimo dei parametri che prendo in considerazione ed è stato così anche questa volta quando sono andato in negozio per provarle e poi comprarle. Ad ogni modo mi piacciono molto cosa che comunque male non fa. Chiaramente poi al momento dell'acquisto potendo scegliere lì per lì tra un colore normale sul nero e quello che vedete nella copertina dell'episodio ho puntato sulla colorazione più ignorante disponibile. In generale un po' tutta l'atto mai è stata rivista rispetto al passato rendendola più fasciante ve ne parlo anche meglio dopo quando affrontiamo il discorso calzata. Vi anticipo intanto qualcosa adesso l'hanno ristretta leggermente e da prima impatto quasi mi sembrava stretta. In realtà devo dire che già dopo la prima seconda terza uscita la forma si è ben adattata al mio piede collo in particolare ma è un aspetto su cui secondo me bisogna prestare attenzione specialmente se non avete dei piedi proprio finissimi. A livello di traspirabilità e anche di conseguenza di temperatura percepita direi che ci siamo staremo adesso a vedere con l'avvicinarsi dell'inverno e di conseguenza del freddo. Uno dei difetti a mio avviso più importanti quelli più ciccioni di questa scarpa però è il tallone non tanto perché non è rinforzato non c'è una conchiglia ma questo non è un problema la rende comunque morbida flessibile lì ci si sbatte poche volte. Il problema sta nella sua forma. Oka ha mutuato questa forma allungata del tallone da altri modelli tipo le Clifton 8 per capirci. Peccato che le Clifton siano scarpe da strada e non da trail. Questo allungamento consente effettivamente al piede di entrare meglio nella scarpa stessa però non ci entra bene solo il piede ma pure sassolini e detriti in genere se per qualche motivo finiscono sul bordo cadono lì sopra questa forma quasi a imbuto fa sì che essi entrino direttamente con facilità all'interno della scarpa e tutti quanti sapete bene quanto anche solo un sassolino microscopico sia veramente rompicoglioni. Ancor più se vi capita in gara e vi girano proprio le balle a fermarvi per toglierlo oppure ve lo tenete consapevoli del fastidio. Secondo me era di gran lunga meglio usare un classico laccettino come si fa in tantissimi altri modelli di scarpe o farne anche direttamente a meno che si risparmiava ancora più sul peso. Tanto questi lacci messi sul tallone per aiutare l'ingresso del piede personalmente li uso poco poco poco. Parliamo della linguetta è abbastanza minimal molto sottile personalmente va bene anche così ha questa forma v che è fatta in modo che possa aderire al collo del piede cercando di evitare al tempo stesso l'ingresso di detriti. È una v molto più accentuata rispetto ad altri modelli di scarpe da trail anche non solo di oca. Per me è di dimensione lunghezza proprio precisa precisa hanno limato ogni millimetro disponibile. Anche qua però come il discorso della calzata che vediamo a breve è proprio al millimetro per qualcuno forse potrebbe risultare addirittura corta. E parliamone allora delle dimensioni della calzata. Come accennavo poc'anzi hanno cercato di renderla ancora più fasciante dei confronti del piede rispetto ai modelli precedenti e ci sono riusciti perlomeno in parte perché per me la forma è adeguata ma tende ad essere un po' strettina. Se avete un piede più largo della media potrebbe anche darvi qualche problemino quindi prestate molta attenzione occhio. Per me che comunque non ho un piede particolarmente ciccione sento una buona sensazione di fasciatura soprattutto nella zona del collo. Tuttavia per evitare troppo restringimento e lasciare anche un minimo di libertà al piede in più come in altre occasioni ho preso quel mezzo numero extra anzi per la precisione due terzi di numero in più dato che su oca c'è questa numerologia quindi un 42 e due terzi rispetto al 42 base che prendo ogni tanto. Io ho questa versione regular quella standard ma esiste anche una versione wide che dovrebbe consentire maggior spazio. Tuttavia so bene che è difficile da reperire queste versioni più particolari non si trovano quasi mai né online né in negozio. Se proprio volete questa Speedgot 5 e avete una pianta abbastanza larga vi consiglierei comunque di provare a cercare la versione wide. Veniamo all'utilizzo. Come dicevi in apertura io l'ho usata per i miei lunghi in giro per i sentieri e per questa gara da 42 chilometri ed è questo proprio il suo utilizzo. Non è la scarpa da trail di oca più massimalista di tutte ma non è nemmeno molto minimal come una zinalo o una tectonics per dire. Secondo me è un buon compromesso. Va benissimo per uscite di molte ore specialmente se non siete troppo pesanti. In queste situazioni resta ugualmente una scarpa abbastanza comoda e morbida ma meno di quanto non fosse prima. Tuttavia rende bene anche a passi sostenuti dove si può percepire discretamente questa energia restituite in fase di stacco dall'intersuola. Sebbene è chiaro che se volete correre dei trail corti e fare delle sparate c'è di meglio in giro. Non è una scarpa specializzata ma comunque versatile mettiamola così. Nel basket si direbbe di un giocatore all around cioè con la speed got 5 ci si può fare un po' di tutto ma non eccelle in nulla di particolare. Di contro a differenza delle 4 mi danno meno la sensazione di sicurezza e protezione sentendole anche leggermente meno stabili e più tendenti alla scavigliata. Su terreni semplici vanno molto molto bene è proprio loro sono super su strade bianche e sterrati dove far girare le gambe ma ho questa percezione quasi di insicurezza quando ci si sposta un po' più sul tecnico. Ovviamente le storte le prendo con queste scarpe le prendevo in generale anche prima e le prendo con qualsiasi scarpa. Credo sia inevitabile anche perché non è che io sia esattamente Nureyev però nonostante fino ad ora non mi sia mai fatto male ho questa sensazione che sia un po' meno stabile rispetto a quanto fosse la versione 4. Per darvi un'opinione a livello di durabilità devo dire che per il momento sono ancora in ottimo stato però come raccontavo non ci ho corso moltissimo staremo a vedere come andrà per il futuro prossimo. Secondo me avranno una vita comunque lunga ma non lunghissima come per altri modelli di scarpe da trailer più ciccioni essendo state leggermente snellite nella loro robustezza complessiva. Ad ogni modo ho buona fiducia che possono accompagnarmi per sentieri ancora per un bel po' di mesi. Per chi sono e per cosa sono? L'Oca Speedgoat 5 è per chi vuole correre trail medio-lunghi meglio se non si pesa eccessivamente e se non ci si butta su roba troppo tecnica. Per chi sta sopra i 75-80 kg forse meglio le mafate giusto per nominare un modello che vi possa far rimanere in casa Oca. Invece per i runner sotto i 75 kg sono perfetti per allenamenti e gare dato che sono un buon compromesso tra comodità e reattività. Certo non aspettatevi la risposta di una scarpa con il carbonio neanche la sensibilità di un modello più minimalista ma fanno il loro dovere seppur come ho già raccontato abbiano qualche difetto. Credo che l'idea di Oca sia stata quella di creare un modello ben distinto rispetto a prima. Mi spiego meglio. La Speedgoat 4 e le mafate avevano molte caratteristiche simili tra loro e andavano un po' a sovrapporsi come fitta di mercato mentre adesso le mafate sono diventate chiaramente il modello più ammortizzato e protettivo mentre le Speedgoat si discostano un po' e vanno in una zona più intermedia per chi fa trail lunghi ma non lunghissimi oppure vanno anche bene per ultra pure lunghe ma magari per chi non pesa troppo e o ha una buona tecnica di corsa. Per concludere se dovessi fare l'ennesimo confronto con le Speedgoat 4 vi direi che come quelle nessuno mai. Ero veramente innamorato. Con le 4 avevo la sensazione di correre super protetto pur ottenendo al tempo stesso una discreta risposta erano anche molto molto comode. Invece con la nuova ci siamo spostati maggiormente sulla reattività in nome di una minor protezione sicurezza e anche un po' di comfort. Essendo tuttavia poco meno di 60 kg me le posso giocare agilmente su più terreni e situazioni data la loro versatilità ma non sono una scarpa adatta proprio a tutti almeno secondo me. Dato che in futuro ho in mente di fare gare non eccessivamente tecniche per me vanno comunque bene dato che sul corribile dicono decisamente la loro. Se volete darci un'occhiata vi metto il link a Amazon in descrizione come al solito. Se comprate passando di lì è un modo per darmi dei soldi senza darmi dei soldi. Nel senso che per voi non ci sono costi aggiuntivi ma io prendo qualche centesimino nulla di più. È un modo comunque che avete a disposizione per supportare questo progetto. Ovviamente ve lo dico con franchezza non è detto che lì ci troviate per forza al prezzo più basso. Date un'occhiata in giro per il web che qualche offerta ogni tanto ci scappa. Fatemi sapere anche voi come vi trovate con queste tanto discusse. Oh Caspidgot 5. Ho veramente sentito di tutto. Chi le ama e chi le odia senza mezze misure. Io in verità forse mi metto un po' nel mezzo. Come detto non è la mia scarpa preferita di sempre ma non mi fanno neanche così schifo. Per il resto sapete cosa fare. In descrizione ci sono un sacco di link di robe da cliccare Instagram, Telegram e quant'altro dove cliccate fate bene e scoprite cose. E poi per aiutarmi nel fare cose come questa, recensioni o promuovere in generale la cultura del running per noi amatori sempre nelle note c'è il link per accedere al canale Patreon e potete partire anche da un eurino al mese per me anche solo quello già da solo fa la differenza. Direi che per oggi è veramente tutto. Cari runners alla fine non mi sono proprio innamorato ma comunque sia queste saranno le scarpe che più mi faranno compagnia nei mesi a venire. Ci sentiamo alla prossima puntata.